Due serate all'insegna della musica a Villa Donia con Armonie sul Serio. Che cos'è Armonie sul Serio? Armonie sul Serio è un festival musicale, una rassegna concertistica, giunta quest'anno alla terza edizione, nata appunto tre anni fa dall'idea di alcuni musicisti, ma anche professionisti della zona, che hanno deciso di dar vita a un piccolo festival musicale, artistico, che si è tenuto tra Villa Donia e Ardesio. Quindi quest'anno ricorre appunto la terza edizione con due appuntamenti, il 24 aprile e il 30 aprile, entrambi a Villa Donia presso il Teatro Forzenigo. Chi suonerà? Allora, quest'anno si esibiranno giovedì 24 aprile il corpo musicale Carlo Cremonesi di Villa Donia insieme al Just a Brass Quinter, che è il quintetto di Ottoni, di ragazzi musicisti dell'Alta Valle Seriana. Quindi proporranno un programma musicale con una prima parte dedicata alla banda, prettamente la musica bandistica, poi un intermezzo musicale del quintetto di Ottoni e un brano conclusivo tutti insieme con anche una piccola sorpresa canora con l'intervento di un noto cantante della nostra zona. Però quello è una sorpresa. Mentre per la seconda serata che cosa c'è in programma? La seconda serata che sarà mercoledì 30 aprile prevede invece un programma musicale tutto dedicato al pianoforte e si esibiranno due artisti di fama internazionale che sono le professoresse Daniela Piovani, titolare anche della cattedra di pianoforte in Conservatorio a Brescia e Claudia Giacopini che eseguiranno un programma integralmente per pianoforte a quattro mani. Quindi una particolarità anche per apprezzare questo strumento in versione a quattro mani che non capita tutti i giorni di sentire. Al festival è abbinato anche un concorso fotografico in collaborazione con il Circolo Foto 93 di Villa Donia. Come si è svolto? Sì, questo concorso è appunto legato alla manifestazione, al festival da due anni, infatti è giunto alla seconda edizione e appunto con i collaboratori e con gli organizzatori del festival abbiamo pensato di aggiungere un concorso fotografico che aggiungesse appunto valore un po' a tutta la manifestazione. Il concorso è stato operativo per qualche mese e si è concluso, tutti i partecipanti dovevano consegnare tutte le opere entro il 12 aprile. Nei prossimi giorni ci riuniremo appunto in giuria per giudicare i lavori e durante la serata del 30 aprile saranno appunto premiati i tre vincitori oltre che chi parteciperà alla serata musicale potrà anche vedere tutte le opere partecipanti esposte all'ingresso del teatro. Durante l'ultima serata, oltre alla premiazione del concorso fotografico, ci sarà la consegna di alcuni riconoscimenti a personalità della cultura del volontariato del nostro territorio e quindi ci sarà anche questa sorpresa.